Allora questa volta voglio parlare di tre oggetti che invece a me piacciono tanto e in un certo senso mi hanno agevolato tantissimo la vita non me l'hanno risolta che sia chiaro però mi hanno tanto agevolato allora il primo è sicuramente un oggetto che a me ha permesso di facilitarmi la vita soprattutto quando vado in case o in aziende eccolo qui ve lo faccio vedere bene in descrizione questo è una bella invenzione questo è Godox ma insomma esistono di tante marche è molto bello questo è si infila in testa ad uno stativo ci si mette la testa del flash in questo caso e si stringe una grande svolta epocale è stato questo sistema che credo si chiami ad esse perché il suo grande risultato al di là di tener fermo totalmente il flash ovviamente è snodabile quindi può andare in più direzioni ecco lo allento così ve lo faccio vedere vedete che non è male ma soprattutto ha un attacco finalmente comune a tanti flash tanti softbox eccetera cioè l'attacco Bowens è chiamato perché l'ha inventato l'azienda Bowens in più ci si può mettere l'ombrello quindi questo finalmente è un oggetto che io ho amato dal primo giorno perché permette per la prima volta di entrare nel mondo del flash dicendo oggi vado a fare un servizio mi porto l'ombrello di riflessione mi porto l'ombrello bianco di diffusione porto un softbox ecco con quello ci attacco tutto quindi non sto a pensare ogni volta oddio che devo prendere il cavalletto non l'attacco quello della testa con quell'altro è un oggetto favoloso costa una stupidaggine poi ci faremo un video apposito per farvi vedere il reale e fisico utilizzo secondo oggetto che io devo dire la verità è solo un po' appassionato in generale ma questo l'ho amato per tanti motivi è proprio questo cioè questa è una tracolla anonima eccola qua per la macchina che dopo tanti anni che ogni macchina con la sua tracolla tra l'altro una cosa che ho sempre odiato è che ogni tracolla c'aveva il nome del modello della macchina scritto grosso come un panino a me questa cosa non è che cioè se nikon canon fuji mi devono far andare in giro con un oggetto che ho pagato con scritto a caratteri cubitali che il modello è o me paga o io me levo quelle scritte dal collo ma questa è la mia scelta allora io ho delle tra l'altro una questione di sudorazione quindi ho cercato negli anni una serie di tracolle molto fresche perché la maggior parte del mio lavoro che capita spesso anche con due macchine al collo è generalmente nei matrimoni quindi d'estate ma la cosa bella reale di questa storia è l'attacco che nasce da probabilmente un brevetto della stessa azienda americana che dicevamo qualche video fa ma io per principio 35 euro 30 33 per un attacco di plastica stampata onestamente per principio non lo compro mi sembra insulso arrivare a spendere alla soglia quasi dei 40 euro due placchette di plastica con due cancetti che vanno dentro allora io ho aspettato come faccio sempre quando devo rinnovare delle cose e dopo poco il mondo cinese ha fatto dei prototipi molto simili io ho scelto questi che sono basati sul principio di questo brevetto ma sono leggermente diversi io l'ho scelti a testa triangolare si incastrano più velocemente ma insomma è una scelta personale esistono con la testa tonda ma l'ho scelte per un motivo valido da quando giro video e sono ormai tre anni che ho ripreso perché per tanti anni avevo smesso c'era che chi per me girava video dopo da quando insomma sono tornato a fare il videomaker e le tecnologie hanno permesso di avere una bella qualità mi sono dovuto organizzare perché la cinghia naturalmente la tracolla quando stai nel cavalletto che metti l'occhio in macchina dava sempre fastidio se devi fare un movimento di macchina impicciava e quindi ho cominciato a cercare delle alternative per sganciare facilmente la macchina dalla tracolla questo ha fatto sì che ovviamente come il solito forse per un problema per uno un dogma mentale per anni la roba cinese non vale niente alt allora ho detto lo sai che faccio ne compro una la provo su una macchina leggera poi la provo su una più pesante e poi su una pesantissima la tengo in mano la strattono insomma faccio una serie di test e se mi casca qualcosa mi tengo pronto ci lavorerò e la farò diventare definitiva solo quando sarò certo beh ormai sono quasi credo due anni e mezzo tre e pensate che il mio assetto generalmente di lavoro quando esco e non so bene quello che trovo il mio assetto generalmente è fatto dal 24 120 che è puro metallo pesantissimo la 750 o la 600 con il flash sopra prima l'SB800 poi il 900 adesso il Godox TT 685 comunque un bel fardello di peso allora reggeranno si hanno retto bene sono due anni e mezzo senza nessun problema pensate che l'ho messi persino sulla nikon d3 che ancora ho che è veramente un caterpillar quindi posso garantirvi che questo tipo di agganci che si attacca in un attimo e si leva in un attimo è diventato una cosa a cui non posso rinunciare per mia tranquillità le controllo ogni tanto e quando vedrò che c'è qualche tipo inizio di usura le sgancio e le butto qui parliamo e concludo parliamo che questi ganci qui costano un quarto degli originali nati in america l'ultimo oggetto di oggi di cui non posso fare più a meno è una macchina che io mi sono regalato più per frustrazione dopo tanti anni negli ultimi anni cercavo qualcosa che mi agevolasse per creare nasceva con questo concetto per creare dei piccoli video e anche fotografie quando sono in giro magari quando non sono il professionista cercavo qualcosa di facile comodo che non pesasse troppo che non impicciasse troppo dentro le mie borse è uscita credo un paio d'anni fa ed è per me adesso diventata una compagna di vita perché io è talmente piccola e la tengo in tasca e c'ha milioni e milioni di vantaggi sto facendo delle smorfe perché sto allevando il tappo dall'obiettivo eccola qui lista 360 1x2 è stato un amore a prima vista questa macchina gira con due obiettivi a 360 gradi video ma fa anche le foto a 360 quindi quelle che potete vedere nelle immobiliari dove tu puoi cliccando navigare all'interno dello schermo e quindi giri su qualsiasi angolo è una macchina che gira 5,7 k la sommatoria delle due lenti e l'unico difetto che ho trovato ma è colpa mia non è colpa sua è che la macchina crea dei file potentissimi un file creato su un formato particolare che deve passare attraverso il software che vi danno in dotazione alla macchina non si finisce mai di imparare perché questa macchina permette la vedremo poi nel dettaglio di fare alcuni tipi di movimento particolarissimi e può essere gestita sia dal software suo in dotazione che quindi può essere gestito dal desktop ma anche dall'app del telefono che prende i file direttamente dal tele cioè il telefono prende direttamente i file da qui ma lei crea un doppio file uno a bassa risoluzione proprio per agevolare l'app da telefono poi quando avete montato se volete anche da telefono lei esporta ad alta risoluzione con l'altro file è una macchina fantastica la cosa che io sto usando di più devo essere onesto perché sto facendo delle scremature a fasi all'inizio bello bello sempre il 360 il 360 ci dovete perdere tempo dopo per postarlo certo c'è una visione fantastica io cammino lungo una strada così e poi in post produzione scelgo quale fetta di immagine di una città farvi vedere quindi è bellissimo ma la macchina può girare anche con un'ampiezza di 150 180 gradi come una gopro con una qualsiasi action cam quindi con un obiettivo solo io adesso la voglio provare nel vlogging cioè attraverso è dotata di un paletto che lei auto cancella quindi quando mi vedete in giro per una città che sto con una mano così e non c'è niente non sono cretino ma tengo in mano il paletto che lei automaticamente cancella questa cosa è divertente perché la prima volta che notai questa macchina vedevo quello che parlava e dice ma sta macchina ma dove sta sta fotocamma dove si arregge in realtà per terra si vedeva all'ombra del paletto perché ovviamente la macchina il software cancella solo il pallo ma non la sua ombra ad una stabilizzazione favolosa ovviamente pecca come tutte le action cam nel buio perché naturalmente hanno sensori molto piccoli pensate che se io levo la batteria la fotocamera è questa parte qui c'è tutto il cervello della macchina è questa zona qui da qui in giù è tutta batteria e scheda insomma l'ho fatta lunga la sto amando la sto imparando a ogni settimana di più mi diverte molto usarla è una macchina e poi vorrei farci dei video perché in effetti chi non l'ha mai provato a chi non l'ha mai vista affascina molto io vi ringrazio sono andato molto lungo se questo genere di video vi interessano non immaginate la roba che c'ho che vorrei farvi vedere magari qualcosa è utile anche a voi lasciate qualche commento e soprattutto iscrivetevi al canale se lasciate anche like proprio sono felicissimo perché l'algoritmo è ora che ci faccia andare un po più in giro grazie a tutti ragazzi arrivederci alla prossima ciao ciao